Il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini ha pubblicato sui social la lista con i numeri dell'alluvione. 48 sono stati movimenti franosi già censiti su un territorio di 84 km quadrati, vasto e già fragile dal punto di vista idrogeologico. 22 le attività artigianali compromesse, alcune con capacità produttiva zerata. 28 invece sono le attività di impresa distrutte come bar, ristoranti, negozi e uffici. Stessa sorte per sei sedi di associazioni ricreative e culturali. Questa, ha precisato il sindaco, è in sintesi la fotografia di una situazione complessa e grave che andrà continuamente monitorata soprattutto per salvaguardare l'incolumità dei cittadini. Un contesto che date la mano l'amministrazione giudica di gravità unica nel comprensorio delle aree interne del Catria in termini di danni al patrimonio pubblico, privato, imprenditoriale, sociale e umano, un territorio così compromesso con situazioni di rischio e infrastrutture annientate dalla furia dell'alluvione, per Piccini merita adeguate e immediate risorse. Perché il pericolo della distruzione di un patrimonio naturale, boschivo, artigianale, culturale, umano e di biodiversità, come quello cantianese, ha dichiarato Piccini, è una perdita irreparabile per tutti. Intanto si continua incessantemente a pulire all'interno di stabilimenti e abitazioni, a tagliare e rimuovere alberi e fango, a gettare ciò che non è più recuperabile. Volontari provenienti da tutta la provincia non fanno mancare il loro supporto e continua dall'inizio dell'emergenza il lavoro del Cibi Club Mattei di Fano sotto la guida del presidente Saverio Livi. Le attività proseguono la consegna dei pasti giorno e sera perché ormai è un'attività che facciamo da una decina di giorni. Oltre a questo siamo presenti ancora, anche stamattina sono partiti due volontari con le pale soprattutto perché le pompe non servono più. Abbiamo lassù un bob che se andiamo su noi e siamo abilitati a condurlo lo portiamo noi, altrimenti lo lasciamo al referente sul posto che lo fa utilizzare da chi naturalmente è abilitato. Quindi queste sono le attività. Oltre a questo è un fatto abbastanza curioso che di solito non rientra neanche nel contesto di protezione civile come del resto non rientra. Parliamo sempre di volontari spontanei che quelli vanno da soli e quindi si mettono a disposizione delle famiglie ma una ditta qui del posto vicino a noi ci ha contattato ed è venuta sabato è andata in pratica con 80 operaie dei mezzi in pratica Ruspe, Bob e quant'altro. Ci ha fatto piacere perché? Perché sono tutti operai della ditta quindi hanno dietro le spalle le abilitazioni giuste, conoscono bene il DL 81 sulle sicurezza e i DPI, sono venuti ben preparati e si sono messi a disposizione di un'altra ditta, una vetreria in particolare dove hanno lavorato tutto sabato e pulito un gretto del fiume abbastanza importante. A dire la verità hanno portato via tanta roba ma ci vede ancora poco. L'intento era quello della mattina della ditta Meccal di ripulire tutta quella parte del fiume a contatto con l'abitazione e col fiume ma la sera si sono venuti via, si sono dovuti venire via con almeno una metà. Oltre a questo tutto quello che serve che naturalmente ci chiedono, ad esempio adesso stiamo dando assieme ad altre associazioni un supporto al camper degli psicologi che parte da qui tutte le mattine alle 9 e si reca nelle zone di Cantiano, Cagli assieme allo psicologo per assistere la popolazione. Rientra la sera e il mattino dopo riparte da qui alle 9. Per quanto tempo ancora prevedete di proseguire con questa attività? Per l'attività nell'aiuto alla popolazione finché ne hanno necessità, per quanto riguarda invece i pasti non so se domani o domani in altro mi rapporterò con il sindaco perché crediamo che l'attività deve essere gestita sul posto, cioè andremo a cercare un ristorante, già due ristoranti hanno detto di no, uno si è offerto abbastanza disponibile perché poi l'economia a noi danno un rimborso di quello che acquistiamo, mentre al ristoratore potrebbero dare anche qualcosa in il pasto, quindi se il ristoratore accetta, il sindaco è d'accordo, verso la fine settimana vorremmo terminare l'attività nel fornire i pasti e vorremmo fare in modo che un ristorante del luogo fornisca direttamente e riparta anche con la propria attività.